Salve a tutti ragazzi qui Wolf E ste E ste manca salve ragazzi Si 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 diventa Benvenuti su Tollmaster Channel E come penso avrete capito Dal titolo E' il nostro ultimo video Ci vediamo ragazzi ciao Ciao Ok chiudo il video No abbiamo sentito di cui parlare Quindi parleremo Parliamo del parlabile No beh cosa dire Cioè comunque del perché Vabbè Io ho uno dei grandi motivi E' la scuola sinceramente Perché Si perché ultimamente vada schifo Anche se fa il meccanico Non gliene frega un cazzo Di dove parlare Non gliene frega un cazzo Digli anche dove abito Non lo so Vabbè quando lo scriviamo in descrizione Dove abito Anche se l'ho andata a trovare No No comunque ragazzi Cioè Diciamo il motivo principale Alla fine Che nessuno di noi due Ormai ha più voglia Di fare un video Magari dico Oddio Non fate voi ci fondate Però magari Domani Anzi In un ieri Potremmo Magari Ricominciare No perché comunque Ultimamente io Resto giocando Diciamo pochissimo Rispetto a come facevo prima E soprattutto Cioè perché Io solitamente facevo video Su Cod Battlefield E sono giochi E sono giochi che ormai Questo PC 0 In fagliato Sfigato E vabbè Sono giochi che ormai Cioè Almeno Non ci gioco più Perché comunque Cod E gli ultimi due Cod Mi hanno deluso Battlefield Battlefield 4 Vi sono rotto di giocarci Magari Quando andavo a Battlefield Online Però boh Magari Magari Sì Però comunque c'è Perché ormai Ultimamente Cioè Giocavo A Cod Io comunque A Cod Battlefield Solo per fare Video e basta Secondo me Deve avere un obiettivo Su quello che fai Altrimenti Non ha senso Per dire Sì Poi Vabbè Cos'altro dire Beh avete visto Che comunque Qualche giorno fa Ho caricato il video Che l'ho caricato Soltanto proprio Così Perché L'avevo da caricarlo Cioè L'avevo già fatto Mi dispiaceva Buttarlo via Anche se comunque L'avevo buttato via Perché sicuramente Gli ideas Ce lo segnaleranno Ma fa niente Sì Probabilmente Ci hanno già segnalato Tanta video Se evitano Di segnalarci Anche questo Che è l'ultimo video Che faremo Se evitano Sono capace Di farlo Sì Sì Sono stronti Ma Cioè Poi vabbè A parte il fatto Che si era già Diviso Uno dei nostri componenti Sì Comunque Chiariamoci Subito Cioè Che comunque Fanno due Non c'è nessun problema No No Assolutissimamente Cioè 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 Non ho voluto più stare Nel nostro gruppo E così Mi hanno detto Ciao Ciao Pezzo di me Eh No scherzo Ti vogliamo bene Ti vogliamo bene No ma poi Soprattutto c'è Su dire Poi lui Cioè Adesso molta gente Potrebbe dire Ma quando mi hanno detto Di a Jacopo Mi fate meno video Sì ma non è per quello No C'è passata la voglia Cioè Sì C'è anche per esempio Di giocare Cioè Ultimamente gioco Devo ammettere Veramente poco Poi Cos'altro dire Beh comunque Alla fine Magari un ritorno Potrei farlo Magari vedendo Come andranno Battlefield Line Sì Legops 3 O anche Star Wars Battlefront Battle Battle Star Wars Battlefront L'hanno annunciato Ah sì scusa Ho capito Battle Mi ha dato baffanculo Allora Comunque sarà Star Wars Battlefront No Star Wars Battlefront Io non ci spero Tanto Più che altro Per il fatto che Cioè Semplicemente Io ragazzi Ho giocato Al secondo Star Wars Battlefront Che è uscito Nel 2008 2006 Per la PS2 E poi c'erano Un sacco di Modalità Che adesso In questo Star Wars Sono state tolte E Raspa Perché Seriamente Erano molto belle C'erano le battaglie Nello spazio Tutti i roba Che stavi Di Tutto il tempo Tutte le tre ore al giorno A spippettarti Avanti a quelle cose Adesso Le hanno tolte Ci sono solo due squadre E basta E non va bene Ma sì Cioè alla fine Sembra quasi Che stavano facendo Non batte E non batte Il fine Salsa Star Wars Sì Infatti Stavano sviluppando La dice Strano Vabbè Ragazzi La EA Ormai Poco niente Da dire Cos'altro Di Advanced Warfare Meglio non parlarne C Abbastanza difficile Vabbè Dovrete ragazzi Ormai Ormai La cosa è così Un po' comunque Beh Cos'altro dire Diciamo che alla fine Il motivo è che comunque Non sapevamo Video su cui fare Infatti Poi comunque Io vabbè Ancora un po' Prestito per la storia Degli haters Perché ragazzi Veramente Cioè Gli haters Ma poi Gli haters Di cosa Perché gli haters Avremo 100 e qualcosa Estritti Non ne abbiamo Tu puoi dire Poi romperci i coglioni Ti puoi rompermi i coglioni Se ne ho 100.000 Ma sì Ma poi Non si è mai capito perché Così a caso No Sì E non gli ha dato il bibero Alla mamma Allora Sì Ma poi Anche pensare solo Alla voglia Che uno ha Di guardare un video Per segnalarlo Non ha senso Ma sì Ragazzi Abbiamo fatto un video Che giustamente L'ho cancellato Ma vabbè Di cosa ne parlavo Tipo Un bambino Cicchione Che è lì davanti Al notebook Il notebook Perché non si può Permettere un pc No Secondo me Al mac Al mac Sicuro Che pensano che sia Un coso da gamer Invece il pc Il mac è giusto Un'altra cosa Comunque sta rifatto Sta lì Guarda Aspetta Tutti Non dorme Sta lì Aspetta che ha il video E quando lo carica Appena Spunta Ok segnala Ok segnala Così Adesso è mai volto il momento Dei ringraziamenti Quindi direi Vabbè Ringraziamo Dottor Kuto Missa Carrare FPS Assault Crati due Che Diciamo Con cui abbiamo fatto Delle collaborazioni Ringraziamo Tutti quelli Che ci hanno seguiti Ringraziamo Comunque Acopomi Per l'avventura Comunque Ci ha fatto passare I momenti E Cos'altro dire Ringraziamo Lietes Per tutti I 30 40 iscritti Tutte le video Che ci hanno fatto Grazie ragazzi Ciao Ciao